Ultimi giorni della settimana di Ferragosto. Il tempo delle vacanze è quasi terminato, qualcuno è già rientrato e non mancano i primi bilanci sulla settimana più attesa dell'intero mese di agosto. Come sta andando la settimana di Ferragosto? La settimana di Ferragosto sta andando bene, ci sono presenze, siamo soddisfatti di come è andato il Ferragosto, parricchi eventi, molte attività, quindi sostanzialmente è un bilancio positivo. I turisti hanno scelto l'entroterra oppure il mare? Ma si sono distribuiti, ovviamente prevalentemente lungo la costa, ha tenuto il turismo balneare, abbiamo avuto delle buone presenze, è in crescita anche il turismo nell'entroterra, nei borghi e nelle attività più museali. L'offerta turistica presentata da Pesaro è soddisfacente? Ma si, quest'anno è un'offerta turistica molto variegata, ovviamente il tema della cultura e degli eventi nella nostra città si inizia a far sentire anche in previsione del prossimo anno, quindi una scaletta molto densa di attività, sia per quanto riguarda la parte concertistica, sia la parte museale e di attività culturali. Ovviamente anche lungo le coste, quindi il mare è affollato in questa settimana, abbiamo notato ovviamente nei mesi invece di giugno e di luglio un bel calo rispetto all'anno scorso. Rincari importanti nell'ultimo periodo, a risentirne anche le ferie di Ferragosto. Sul Ferragosto pesano i rincari? Assolutamente sì, questo direi che quest'anno è uno dei nodi importanti, insomma, rincari, ma più che i rincari delle materie prime che si è già avuti l'anno scorso, anche direi il rincario dei tassi di interesse, quindi la crescita dei tassi di interesse, che ovviamente per una famiglia media, come quella che è dalle nostre parti in vacanza, incidono parecchio sul budget. In attesa del bilancio finale, una previsione per l'ultima parte dell'estate? Ma su questo un attimo attendiamo la fine dell'estate, lo faremo a settembre, abbiamo dei dati un po' contrastanti anche nelle varie località, quindi attendiamo i dati definitivi e speriamo che comunque ci sia un segno più alla fine.